Niente Sampedoria, almeno per quest'anno, e niente nemmeno Trapani. Il giovane e tante difensore centrale, l'alcamese Erasmo Moulet, 20 anni, potrebbe giocare nella Juventus Under-23, la formazione che, allenata da Pecchia, prende parte alla Serie C. Moulet, dopo un brillante avvio nella scorsa stagione, proprio in Serie C, dove era arrivato quasi a sorpresa dal settore giovanile Granata, a gennaio era stato ceduto a titolo definitivo alla Samp, pur rimanendo in prestito con i Granata. Nell'ultimo scorcio di stagione, però, anche a causa di alcuni lievi infortune, ha poi giocato pochissimo e, ai primi di luglio, si è recato a Bojasco, in Liguria, per cominciare il pre-ritiro con i blucerchiati. Il tecnico, però, dopo alcuni giorni di allenamenti, non lo ha ritenuto ancora pronto e non lo ha convocato per il ritiro in montagna. Erasmo Moulet, però, ha un fior di procuratore Beppe Accardi e, dopo che si era vociferato un possibile ritorno in Sicilia, al Catania o al Trapani, ieri sera Sport Italia ha raccolto l'indiscrezione, annunciando che il difensore alcamese potrebbe passare addirittura alla Juventus. Si trasferirebbe così a Torino in prestito e farebbe parte dell'Under-23 che giocherà il campionato di Serie C. per il prodotto del vivaio della Delcam, sarebbe un'importantissima vetrina anche dinanzi agli occhi della vecchia signora, la più potente e forte di questi tempi, Società Calcistica d'Italia.